Questa mattina sono a Lido del Sole, marina di Rodi Garganico, dove grazie ad un finanziamento straordinario della regione Puglia di 300 mila euro dato al comune di Rodi Garganico con il sindaco sono partiti i lavori per rifare diverse strade di Lido del Sole. La scelta di queste strade è stata fatta d'intesa con il comitato civico di Lido del Sole, l'associazione ATAS, ringrazio il presidente, tutta l'associazione e quindi la regione Puglia ha dedicato un'attenzione particolare a Lido del Sole che meritava di avere dei lavori straordinari e oggi stiamo partiti con fatti concreti.